Gara d'esordio al Torneo 8 Nations Group qui ad Ostuni per la Spagna, insomma una gara che forse all'inizio era tutta a favore del Belgio, poi la Spagna è riuscita a rimetterla in piedi. E' il nostro primo match per questo gruppo, un'internazionale, solo una settimana in pratica e abbiamo iniziato con un match in una competizione per questo primo match per l'Europa under 17. Nonostante il risultato sono molto propositivo in merito al proseguimento di questa manifestazione, la nostra squadra ha avuto una settimana per prepararsi in modo più intenso. Sono tuttavia soddisfatto di come i ragazzi di fronte a questa manifestazione, di questa carattura, comunque stanno tirando fuori il loro meglio, cercando di dare il massimo a ogni setta e siamo fiduciosi per il futuro. Di fronte a queste squadre, a cosa ci aspetta, faremo del nostro meglio. Hai provato con alcuni cambi, insomma, a dare una svolta al match? Al match di nostra squadra ho cercato di mettere il meglio giro. Io credo che il nostro problema è un grande giro, come in Belgia hanno un giro giro, abbiamo bisogno di un giro 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 giro, e abbiamo bisogno di un altro giro giro. Io credo che nel medio ci siamo in buona condizione. Per il nostro paese, ogni paese è diverso. Ovviamente abbiamo potuto vedere che il Belgio offre un vivaio di forti opposti, che abbiamo cercato di contrastare, inserendo dei cambi con atleti magari più indicati. Per la nostra squadra è un inizio, perciò continueremo a fare del nostro meglio.